Buonasera, questa sera parliamo di ricerca, parliamo di ricerca importante, una ricerca che cerca di combattere il male del secolo, o comunque il male di tutti i secoli, il tumore. Tumore al polmone in particolare, uno dei più invasivi, uno dei più aggressivi sicuramente. Ne parliamo con il dottor Achille Lococo, che è il capo del Dipartimento delle Chirurgie dell'ospedale di Pescara, oltre che essere direttore dell'unità operativa del reparto di chirurgia toracica dello stesso ospedale. Buonasera dottor Lococo. Buonasera. Parliamo anche con il dottor Claudio D'Archivio, del gruppo medico D'Archivio, che è uno dei gruppi sicuramente che si sta distinguendo nell'ambito del territorio della sanità, per quanto riguarda il sostegno alla sanità, alla ricerca, anche con degli strumenti avanzati, con i quali poi discuteremo appunto di questo, entreremo in questo dettaglio. Dottor Lococo, la prima domanda che ci viene in questa situazione è quanto è aggressivo questo tumore al polmone e soprattutto ci si ammala quanto e quanto si guarisce se si guarisce? Allora, guardi, purtroppo allo stato attuale il tumore del polmone ha una, possiamo considerarlo la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nella donna. Anche se l'incidenza di questo tumore non è al primo posto, ma lo è per mortalità in quanto è una malattia neoplastica poco curabile. Poco curabile, adesso se possiamo vedere la prima diapositiva, ci aiuta a capire come è una neoplasia più diffusa. La prima causa negli uomini, la seconda nelle donne, prima causa di morte però in entrambi i sessi. Recentemente stiamo assistendo negli ultimi decenni a un progressivo incremento della incidenza di tumore del polmone nelle donne, perché avrete tutti fatto caso che negli ultimi decenni anche per una forma di emancipazione, tra virgolette, le donne fumano più degli uomini e a distanza adesso di qualche decennio le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, cioè di un incremento notevole nelle donne di tumore del polmone. C'è un aumento anche perché l'incidenza maggiore è negli anziani, l'età media sappiamo è aumentata notevolmente, allo stato attuale è di 83 anni per le donne e di 78 anni per gli uomini e progressivamente per il passato degli anni questa aspettativa di vita è destinata ad aumentare ulteriormente e conseguentemente è destinata ad aumentare anche l'incidenza del tumore del polmone. Perché? Perché i fattori di rischio, soprattutto il fumo di sigaretta e l'inquinamento ambientale, non ce lo scordiamo, è molto molto importante, hanno bisogno di molto tempo per portare a delle conseguenze. Perché il nostro polmone è un filtro, è come il filtro della macchina, quindi più chilometri si fanno e maggiori sono le probabilità che questi fattori inalati, cancerogeni, possano dare come conseguenza lo sviluppo di un tumore polmonare. Ecco, quindi lei ha citato il fumo e l'inquinamento, quindi questo tumore è sicuramente più alta l'incidenza dello stile di vita? È sicuramente molto più alta rispetto ad altre neoplasie, questo ci spiega il motivo per cui il fattore dell'età, cioè più paziente anziano, maggiori sono il rischio di ammalarsi di un tumore al polmone, quindi il periodo di esposizione, il collegamento con il fumo di sigaretta sicuramente, quindi sono tutte condizioni che purtroppo ci fanno pensare che, mentre per altri tumori la curva di incidenza sta cominciando a scendere già da alcuni anni, per esempio il tumore dello stomaco, il tumore del colon, siamo in una fase in cui c'è un progressivo decremento dell'incidenza di questi tumori nella popolazione. Per il tumore del polmone invece continuiamo con una curva che tende ancora a crescere. Addirittura. La tecnologia, o perlomeno il fatto della ricerca, lo studio in questo campo, quanto riesce ad essere in rapporto utile per aiutare a sconfiggere questo male? Allora, ecco, io se mi fa vedere l'altra diapositiva, volevo farvi vedere questa differenza che ci stava di curabilità tra il tumore del polmone, il colon, la mammella e la prostata, per esempio che sono tra i tumori più diffusi. Vediamo come la curabilità del polmone è solo del 30%, mentre invece arriviamo a percentuali molto più elevate per il colon e la mammella. Perché? Perché, vedete, l'incidenza e la mortalità sono molto vicine, perché noi facciamo la diagnosi a uno stadio purtroppo tardivo di questo tumore, è un tumore che non dà sintomi. E questo comporta che abbiamo un'alta incidenza, quindi tanti si ammalano, alta mortalità, pochi guariscono. È un grande disastro. Cosa possiamo fare? In realtà possiamo pensare di fare, innanzitutto, una prevenzione primaria, eliminare le cause. E questa si chiama prevenzione primaria. Quali sono le cause? Le cause sono sicuramente il fumo di sigaretta, gli inquinanti ambientali, attenzione alla dieta. Chiaramente non possiamo intervenire su altri fattori, quali la predisposizione genetica. Sappiamo benissimo che in alcuni soggetti c'è una familiarità, c'è una predisposizione anche ad ammalarsi più facilmente del tumore del polmone. E poi la prevenzione secondaria, quella che noi facciamo, della diagnosi precoce. Per fare una diagnosi precoce, però, in un tumore che non dà sintomi, l'unica possibilità è fare uno screening. E di questo, penso, sia il motivo di cui noi possiamo parlare. Perché se riusciamo a fare una diagnosi precoce in un tumore a uno stadio molto iniziale, noi sappiamo che la chirurgia, in oltre l'80% dei casi, è curativa. Ci permette di ottenere una guarigione. Quindi mai come in questo caso, accorgersene prima e in tempo è fondamentale. Perché diceva appunto che i cancri al tumore possono essere guariti, sicuramente, se presi ovviamente in uno stadio iniziale. E appunto lei, prima però di parlare dello schieno, volevo coinvolgere un attimo il dottor D'Archivio su questo ragionamento appunto di come avanza la ricerca rispetto al male, visto che è un male che comunque rimane sempre molto aggressivo. Molti anni fa sicuramente i chirurghi che abbiamo qui con noi, una grande professionalità, agivano un po' di più, diciamo così, alla cieca. Oggi, proprio per la interdisciplinarità, ma soprattutto dai progressi ottenuti anche nella tecnica radiologica e di indagine, diagnostica sicuramente i chirurghi hanno una mano in più da parte vostra, perché sicuramente oggi ci sono delle strumentazioni che permettono anche di essere aiutati nella diagnosi di un tumore e anche in fase precoce. Certamente, diciamo che in tempi lontani c'era solo la radiografia del torace, che poteva essere di ausilio al chirurgo per cercare di capire se c'era una nodulazione polmonare sospetta. Ed è vero che la radiologia tradizionale resta ancora quella più sicura, tra virgolette, dal punto di vista protezionistico, quindi dell'incidenza delle radiazioni ionizzanti. Però è chiaro che non possiamo basarci su una radiologia, su una radiografia del torace per poter essere di ausilio in questa diagnosi precoce, appunto come diceva il dottor Lococo, la cosa fondamentale è pizzicare, tra virgolette, il tumore in fase iniziale. In fase iniziale, purtroppo, lo si fa soltanto con un esame TAC. Originariamente avevamo le TAC ad alta risoluzione, che però comunque erogavano una dosi di radiazione è ancora un po' troppo alta per essere inserito in un progetto di screening, perché se c'è un paziente che ha già una nodulazione polmonare e io lo devo studiare, non mi preoccupo, tra virgolette, tanto della dose di radiazione paziente, in quanto è più importante e primario, diciamo, la malattia del paziente. Per entrare in uno screening, quindi per dare meno fastidio, tra virgolette, alla popolazione, oggi ci sono macchine che lavorano a basso dosaggio, infatti si chiamano TAC low dose, appunto perché utilizzano una dose di radiazione molto, molto bassa. Giusto per far capire un attimino di che cosa stiamo parlando, diciamo che il Ministro della Salute in Italia stabilisce in un millisievert, i millisievert è l'unità di misura delle radiazioni, in un millisievert la dose, diciamo, tra virgolette normale per ogni soggetto ogni anno, con un ATAC a basso dosaggio nello screening del pulmone diamo 1,7 millisievert, quindi insomma siamo quasi in linea e questo ci permette di andare alla ricerca, a trovare delle nodulazioni, delle piccole nodulazioni che possono essere interessanti. È chiaro, in questo caso poi si apre un dibattito, cioè noi frequentemente quando facciamo esami TAC del genere troviamo delle piccole nodulazioni, ok? Le piccole nodulazioni che non sempre è facile caratterizzarle appunto per le piccole dimensioni. e quindi non è che facendo un esame, trovando un nodulo si ha un tumore del polmone, assolutamente. Ci sono dei parametri, si è stabilito delle dimensioni, per esempio per nodulazioni, nel caso dello screening, nodulazioni che sono al di sotto dei 3,5 mm, non vengono prese in considerazione perché si è visto che assolutamente non possono essere riferibili a tumore del polmone. Per le nodulazioni che sono intorno ai 5 mm o 6 o 7, poi c'è tutto un programma di controllo preventivo che va ad un anno o a 6 mesi, a 3 mesi o a un mese, a secondo appunto della grandezza della tipologia della nodulazione che si va a ritrovare. Dottor Lococo, come si fa prevenzione nel tumore del polmone? Allora quindi, come le avevo detto prima, sicuramente al primo posto in assoluto è il fumo di sigaretta. E su questo bisogna fare una riflessione davvero, secondo me, molto attenta. E' sicuramente dimostrato che fumare un certo numero di sigarette espone ad un rischio molto elevato che nel corso della propria vita di sviluppare un tumore del polmone. Perché? Perché noi sappiamo che ogni uomo, vedete dalla tabella, inspira ed espira 15-20 volte al minuto. Se calcoliamo quante volte inspira e espira in un giorno, in un anno, nella vita viene fuori che espiriamo e ispiriamo un mezzo miliardo di volte nella nostra vita. Ciò significa che attraverso i nostri polmoni noi filtriamo una quantità enorme di aria che noi inaliamo e comprese anche il fumo. Nel fumo di sigaretta ci sono 4.000 sostanze. Di queste 4.000 sostanze attualmente sappiamo che circa un centinaio sono cancerogene. Di molte di queste sostanze ancora non sappiamo nemmeno il potenziale potere cancerogene o dannoso che c'hanno. Quindi questo è un primo aspetto che dobbiamo considerare. Quello che poi bisogna considerare è che a tutt'oggi, nonostante gli impegnativi programmi di campagne antifumo che sono state fatte a livello mondiale, noi ci ritroviamo ancora che il 29,5% degli italiani ancora fuma. Di questi sono il 35% sono uomini e adesso, come dicevo prima, quasi il 27% sono donne. Purtroppo tra noi medici fuma quasi la metà dei medici. Quindi l'esempio non è un buon esempio. E allo stato attuale in Italia noi abbiamo un numero, vedete, enorme ancora di nuovi casi di tumore del polmone, 30.000 tumori del polmone rispetto a, diciamo, nel mondo ogni 7 minuti c'è una persona che si ammala al tumore del polmone per le cause del fumo di sigarette. Cioè, questi sono dei dati che ci devono far riflettere. Ci devono far riflettere poi un altro aspetto che sta nella prossima diapositiva che in realtà sorge qualche dubbio sull'esistenza o meno di un conflitto di interesse quando un pacchetto di sigarette, che costa 5 euro mi sembra, ben più di 3 euro se le mette in tasca lo Stato perché dopo le accise dei carburanti lo Stato si regge sulle tasse che noi versiamo per il fumo di sigaretta. Quindi significa che ogni pacchetto di sigarette 3 euro vanno, quindi il 60% va subito in tasse, va via in tasse. Un altro 20% per l'IVA che viene pagata sul costo e rimane al produttore un 14% al produttore e un 10% di questa cifra iniziale al tabaccaio. Allora, credo che se domani, domattina, tutti gli italiani dovessero seguire questa trasmissione, dovessero decidere di non fumare più, noi dovremmo cambiare paese perché l'Italia andrebbe a gambe per aria. Però sicuramente ci sono due posizioni diverse tra lo Stato che incassa i soldi da questa vendita delle sigarette e uno Stato che eroga invece sanità. Certo, probabilmente se andassimo a calcolare come sono abituati a fare gli americani, quale è il costo per lo Stato sociale, quindi in termini di erogazione di cure per i pazienti che si ammala, ma sicuramente credo che si potrebbe dimostrare che quello che da una mano si prende, dall'altra si dà. Certo. Quindi, cioè, voglio dire... Probabilmente questo incasso potrebbe essere destinato anche molto di più alla ricerca. Però qui, a proposito di prevenzione, mi viene anche a sottolineare e da chiedere, ma è vero che non esiste in questo momento uno screening del polmone, come dire, riconosciuto a livello di assistenza sanitaria rispetto invece agli altri screening che in questo momento si effettuano a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale? Allora, esatto. Io penso che l'idea che fin dall'inizio ha animato il professor Veronesi nel proporre questo studio di screening a livello nazionale era proprio questo intento qua, di cercare di verificare se ci fossero anche per il tumore del polmone le condizioni per far passare lo screening tra i LEA, livelli essenziali di assistenza, come oggi, per esempio, lo screening della mammella, del colon, del servizio uterina. Lei sa bene, direttore, che lo Stato è tutto mutuabile, le procedure diagnostiche che si fanno per la diagnosi precoce di queste neoplasie. Dobbiamo ancora dimostrare che questo vale per il polmone. Perché questo? Perché ci sono due aspetti. Un aspetto è quello, diciamo, dei costi di una spiraltacca a basso dosaggio. E l'altro aspetto è quello di esposizione a radiazioni. È giustificato e è sostenibile questo impegno da un punto di vista economico e da un punto di vista di esposizione a radiazioni per diagnosticare il numero di tumori che noi riusciamo a diagnosticare oggi con lo screening? Questo è il problema. Ci sono tanti studi a livello mondiale, quello dell'Helcap, per esempio, quello della Fleshing Air Society americana, che riportano un caso di diagnosi di tumore del polmone su 100 TAC che vengono effettuate nel gruppo di soggetti a rischio. Allora, chiaramente è ancora un valore basso. E su questo, infatti, lo studio che noi stiamo facendo con l'Istituto Oncologico Europeo, qui a livello della regione Abruzzo, insieme a Claudio D'Archivio, è quello di, innanzitutto, andare a dimostrare se stringendo la forbice della selezione dei pazienti, come noi abbiamo fatto in questo studio del Cosmos 2, si chiama, cioè soggetti che hanno da 50 a 75 anni, che fumano circa una ventina di sigarette al giorno, che hanno smesso di fumare da non più di 15 anni, e che fumano da un certo numero di anni, c'è un programma che è una scheda informatizzata che la data manager riempie nel momento in cui noi veniamo contattati da questi soggetti volontari che vogliono entrare in questo studio, che calcola se l'indice di rischio è tale da giustificare di far entrare questi soggetti nel programma di screening. E poi le dirò i risultati che... Ecco, allora, procediamo da noi. Intanto, Pescara è uno di questi cinque centri in Italia che ha partecipato a questo screening organizzato dall'Istituto Oncologico Europeo del professor Veronesi, anche per una serie di motivi. E diciamoli subito, perché Pescara è stata chiamata anche a rappresentare Abruzzo per questo tipo di arruolamento, per trovare, insomma, per fare prevenzione sul tumore del polmone. Allora, guardi, io con una certa soddisfazione le devo dire una cosa. Io, quando la dottoressa Veronesi, che è la responsabile di questo studio, che sarebbe la figlia del professor Umberto, mi ha proposto di entrare in questo studio, io ho posto una sola condizione, che il call center per arruolare i soggetti volontari lo gestissimo noi, qui a Pescara, con un numero fisso di telefono che corrisponde al nostro reparto. Perché questo? Perché pensavo che fosse giusto che noi dessimo questo servizio ai cittadini abruzzesi, innanzitutto. E effettivamente questo ci ha costato uno sforzo di gran lunga maggiore rispetto agli altri centri. Noi siamo l'unico centro che ha gestito il call center direttamente. Però abbiamo un altissimo numero di soggetti arruolati che sono abruzzesi. Perché mi sembrava giusto fare un servizio anche per la nostra regione. Insomma, voglio dire, mi sembrava una cosa naturale. In questi cinque centri voi avete cosiddetti arruolate, avete arruolato delle persone in base ad un, chiamavo bando, avete aperto la possibilità di iscriversi a questo screening. Sì. In base a che cosa? Determinate caratteristiche e requisiti, come? Vabbè, innanzitutto l'età. Un'età compresa tra i 50 e i 75 anni. Questi erano proprio dei criteri molto rigidi perché bisognava riempire una scheda informatizzata che poi via web veniva condivisa con Milano e quindi noi eravamo sottoposti a un continuo controllo da parte del centro pilota. Ma è giusto che sia così perché poi la validità scientifica dei risultati non potrebbe essere attendibile se ognuno andasse per le strade sue. Quindi questo. Poi questo programma calcolava il numero di sigarette fumate al giorno per quanti anni e veniva fuori alla fine uno scorro. Poi c'erano di mezzo anche se c'erano altre patologie associate, familiarità e quant'altro. e veniva fuori uno scorro che se superava lo 0,99 automaticamente il soggetto veniva accettato per entrare nello studio. Voi a Pescara ne avete arruolati? Noi ne abbiamo arruolati 550. Più altri anche in Abruzzo. Nel resto d'Abruzzo. Sì. Abbiamo arruolato 550 soggetti. Allora, noi la scorsa settimana abbiamo avuto un incontro a Milano e lo studio si è chiuso il 30 di settembre quindi del mese scorso quindi siamo da poco più di un mese si è chiuso l'arruolamento e siamo stati convocati a Milano dove ci hanno anticipato i risultati i primi risultati del nostro studio che sono davvero molto interessanti. Ne parliamo dopo una pausa con la regia perché sono cose molto importanti da seguire. Stiamo parlando di tumore del polmone con il dottor Achille Lococo capo del Dipartimento delle Chirurgie dell'Ospedale di Pescara e il dottor Claudio D'Archivio del gruppo D'Archivio. Dicevamo, dottor Lococo, di questo progetto Cosmos 2 che è uno dei primi forse una pietra migliare possiamo definirla nello screening del tumore del polmone dicevamo dei risultati incoraggianti. Allora, intanto si chiama Cosmos 2 perché prima nel Cosmos 2 c'è stato il Cosmos 1 che si è concluso circa due anni fa sempre promosso dall'Istituto Oncologico Europeo ha studiato 4.600 soggetti volontari con una forbice più ampia nei criteri del ruolamento e che ha portato a dei risultati incoraggianti al punto tale da, diciamo, indurre l'Oieo a proporre uno studio su un campione più ampio di soggetti arruolati che avesse un duplice scopo un duplice fine. da una parte quello di stabilire restringendo diciamo sempre di più i requisiti quindi diventando più selettivi nei soggetti da studiare verificare se questo portasse a maggior benefici rispetto ai costi. E l'altro braccio della ricerca era quello di studiare un nuovo marker che si chiama Mirna microRNA che non è altro che un esame del sangue un banalissimo esame del sangue tra l'altro che c'è anche un costo estremamente basso se fatto su larga scala e che prevede diciamo l'individuazione nel sangue dei soggetti a rischio di questi ultramicroscopici frammenti del DNA delle cellule tumorali. Perché questo? Per utilizzare a scopo diagnostico questo marker ma soprattutto per cercare di individuare una fascia di maggior rischio di soggetti fumatori in modo tale da non fare come primo approccio la TAC a basso dosaggio a tutti ma farla solamente a quei soggetti forti fumatori che stanno compresi in quella in quella diciamo in quei requisiti di cui abbiamo parlato riducendo molto il numero di soggetti che devono fare la Spiral TAC ma restando sempre avendo sempre gli stessi risultati attesi. Quindi lei praticamente per capirci con il pubblico ci sta dicendo che il futuro di questa di questa prevenzione di questa ricerca sul tumore del polmone va alla ricerca tramite un semplicissimo esame del sangue di una selezione delle cellule tumorali riconoscendole dalla presenza rispetto alle altre cellule normali di questi microscopici frammenti di codice genomico insomma delle cellule. Allora l'intento è quello di far siccome si parla tantissimo di prevenzione però poi bisogna anche farla la prevenzione prevenzione come abbiamo detto prima smettere di fumare una dieta più adeguata più equilibrata fattori ambientali tutto quello di cui sappiamo ormai tutto direi però prevenzione è anche la diagnosi precoce allora vorremmo che anche il tumore del polmone come per la mammella il colon e la cervice uterina ci fosse una diciamo un'indagine diagnostica che sempre rimane l'attac a basso dosaggio che permetta di individuare questi tumori soggetti ad alto rischio con una sostenibilità come dicevamo all'inizio sia dal punto di vista dei costi sia dal punto di vista dell'esposizione alla radiazione per fare questo fino ad oggi nessuno ci è riuscito in sostanza perché costa molto fare 100 tac per individuare un tumore al polmone e poi è eccessiva l'esposizione per individuare solo un tumore del polmone allora oltre a restringere i criteri e se fa vedere la diapositiva da questo studio multicentrico vediamo che questi sono i centri che hanno partecipato in Italia qui manca la basilicata che recentemente è entrata e ha arruolato addirittura un migliaio di soggetti vedete la fascia è tra i 50 e i 75 anni fumatori di 20 sigarette al giorno ma anche un numero inferiore di questo purché il numero di anni di esposizione al fumo sia sufficientemente lungo ex fumatori da meno di 15 anni e diciamo l'attacca che viene effettuata deve essere un'attacca a basso dosaggio allora dicevo questi sono i dati di Pescara ha partecipato anche Teramo allo studio con un paio di centinaia di soggetti arruolati quindi complessivamente in Abruzzo noi abbiamo arruolato 750 soggetti volontari questi sono quelli che noi abbiamo arruolato a Pescara sono 555 vedete i centri che a titolo gratuito hanno partecipato sono il centro di Claudio d'Archivio Giulianova la casa di cura Pierangeli a Pescara e l'istituto diagnostico italiano di Lanciano noi abbiamo fatto diagnosi di tumore del polmone in 9 pazienti in 9 soggetti su 555 7 di questi avevano un tumore a uno stadio molto iniziale sono stati operati e hanno ottime probabilità di guarigione 2 purtroppo erano già tumori inoperabili fino dal momento della prima diagnosi e quindi hanno fatto solo delle procedure quindi diagnostiche quindi noi abbiamo individuato sul nostro campione l'1,6% di TAC che sono venute positive per un tumore del polmone lo 0,3% erano tumori inoperabili l'1,3% erano tumori operabili quindi l'80% dei soggetti che noi abbiamo diagnosticato erano in una fase precoce lo studio di Milano si riferisce a 6.770 soggetti arruolati in realtà l'obiettivo era quello di arruolarmi 10.000 ma siamo arrivati a questo numero che comunque è un campione utile per avere una significatività statistica e quindi attendibile su 6.770 soggetti arruolati sono stati individuati 89 tumori del polmone quindi siamo all'1,4 1,5% che è superiore già all'1% che è il dato storico di tutti fino adesso gli studi che sono stati fatti di screening e su questo noi abbiamo pensiamo di aver raggiunto il risultato atteso sappiamo perché la storia del Cosmos 1 e anche degli altri studi di screening ci dicono che ogni anno adesso secondo noi fino a 5 anni seguiremo questo campione di soggetti volontari noi sappiamo che ogni anno noi diagnosticheremo più o meno lo stesso numero di casi quindi ci attendiamo per il prossimo anno altri circa 90 casi e il terzo anno uguale il quarto e il quinto l'altro braccio di cui parlavamo è vedremo da qui a qualche anno se questo come sembrerebbe questo marker in IRN ci permetteranno di restringere ulteriormente la forbice sulla selezione dei pazienti e proporre in quello che probabilmente sarà il Cosmos 3 quindi un altro studio che seguirà questo proporre di fare lo screening con l'attacca a basso dosaggio solo in quei soggetti che hanno valori molto elevati di Mirna per poter ottenere dal Ministero della Salute che anche il tumore dei polmoni rientra tra in mea nelle campagne di screening perfetto Dottor D'Achivio lei ha collaborato anche con l'arruolamento sui pazienti arruolati a Teramo che ha detto che il Dottor Lococo sono stati circa 200 siamo sullo stesso numero di casi quindi la percentuale rispettata Sì io sono stato appunto contattato dal Professor Crisci per sostenere l'etac dello screening dell'arruolamento a Teramo e con l'amico Achille per diciamo i pazienti diciamo del Teramano basso Teramano che si rivolgevano a lui e con risultati per quanto riguarda l'esperienza di Teramo sovrapponibile a quello dei dati degli altri centri mi preme far notare se mi è possibile una una cosa che lo studio è stato possibile grazie all'aiuto dell'ambiente privato della sanità privata perché in tutti i centri di arruolamento le tacc sono state eseguite da centri privati come faceva vedere il dottor Lococo nei tre centri abruzzesi in riferimento allo studio di Pescara lo studio di Giulio Nova Amio oppure quello di Pierangeli o Lidi di Lanciano sono tre centri privati che hanno potuto che hanno permesso di eseguire le tacc quindi hanno sostenuto la validità del progetto ecco a proposito di questo poi nel privato scendiamo anche nei costi che si devono sostenere per fare la fondata campagna del genere oggi quanto costa sottoporsi ad una tacc una spiral tacc per questo tipo di diagnosi diciamo che nel tarifario corrente dell'attività dello studio una tacc del polmone costa 100 euro però per lo screening del tumore del polmone quindi del Cosmos 2 le tacc vengono eseguite a titolo puramente gratuito ecco mi sembra che avete eseguito in questo studio un bel po' di numero un numero molto alto di tacc beh sì se pensiamo che i controlli vengono fatti annualmente però ci sono alcune condizioni in cui la presenza di noduli o di alterazioni portavano poi a controlli a sei mesi o addirittura a tre mesi o ad altri a un mese dopo terapia antibiotica per valutare se eventualmente ci fosse una componente flogistica oppure no quindi dobbiamo aumentare il numero se nei tre centri diciamo così abruzzesi sono stati eseguiti circa 750 800 sono stati sottoposti a esami 800 pazienti moltiplicato per almeno 2 quindi abbiamo sostenuto finora almeno 1500 1600 tac gratuite del polmone ecco dottor Lococo il discorso di affrontare ovviamente delle spese per sottoposti alle diagnosi o meno è un problema molto reale concreto soprattutto in questa nella prevenzione di questo tumore però proprio perché c'è l'esperienza di questo studio come dire sostenuto dal mecenatismo anche di privati e comunque sostenuto da un istituto che è riconosciuto a livello europeo per la sua attendibile accreditabilità voi anche in Abruzzo vi siete fatti carico anche di questo pensiero cioè chi non rientra tra gli arruolati volontari ovviamente come fa a sottoporsi a questo tipo di valutazione di diagnosi precoce ovviamente sì infatti questo io penso che rientri nella libertà dell'individuo quello di diciamo di poter anche per una sua tranquillità effettuare un controllo se rientra ovviamente si può confermare che rientra in questa fascia di rischio allora noi abbiamo fatto così abbiamo fatto una abbiamo costituito una onlus a Pescara che si chiama l'ASMOT e che è l'acronimo di Lega Abruzzese al sostegno del malato oncologico toracico ci abbiamo delle donazioni che sono state fatte a questa a questa onlus che ci permettono intanto di continuare a sostenere diciamo le spese che a parte le tacche ovviamente che vengono io vorrei ribadire e rinfatizzare questo aspetto perché questa è stata l'unica esperienza in Italia dei vari centri quella che noi siamo riusciti in Abruzzo a partecipare a questo screening grazie ai privati che hanno effettuato queste tacche a titolo gratuito perché nelle altre regioni le cose sono andate diversamente a parte ovviamente Milano che può contare lo IEO su fondi ben diversi da quelli che possiamo avere noi ma anche le altre regioni hanno trovato o fondi pubblici o fondi nel privato che hanno permesso di sostenere le spese piuttosto elevate noi l'abbiamo fatto solo esclusivamente grazie a Claudio d'Archivio alla Cassa di Cura a Pierangeli e a Lidi di Lanciano questo bisogna dirlo in riferimento a quello che mi dice lei certo è chiaro che adesso concluso l'arruolamento che era diciamo istituzionale del Cosmos 2 questa esperienza che noi abbiamo maturato tramite questa Onlus che ci permette ancora di continuare a seguire quei soggetti volontari che volessero sottoporsi ad uno screening noi diamo il nostro diciamo contributo valutando se il soggetto che si rivolge a noi ha i requisiti quindi è giustificato che partecipi a questo screening e da parte loro in particolare adesso questo abbiamo già fatto questo accordo con Claudio D'Archivio lui si è impegnato alle sole diciamo spese che vanno a coprire i costi della TAC quindi mi sembra la metà più o meno la metà 50 euro sicuramente 50 euro per fare una TAC è una cosa davvero quindi rivolgendosi all'ASMOT è possibile accedere ad una serie di valutazioni noi facciamo questa valutazione previa a una valutazione iniziale ovviamente noi che lavoriamo nel pubblico non abbiamo non vogliamo ne possiamo avere nessun beneficio a tutto questo lo facciamo per dare un servizio in più ovviamente alla popolazione ecco noi abbiamo ancora tempo per andare adesso dentro il tubore del polmone perché possiamo parlare anche soprattutto anche delle grandi conquiste di chirurgia e tecnologica vediamo un tumore del polmone o qualcosa del genere è una cosa interessante se mi manda la diapositiva anche perché ci spiegherà come la chirurgia ha fatto anche dei grandi progressi è uno dei tumori che sono stati individuati qui a Giulianova se mi fa vedere la diapositiva ci sta una TAC che ci fa vedere questo piccolo nodulo a livello polmonare adesso ci organizziamo per la messa in onda di questo oggi ci abbiamo vedete questo micronodulo periferico in un paziente di 65 anni ma si vede che ha fumato tantissimo perché se vedete quel polmone Claudio ci può descrivere una distrofia bollosa un enfisema di grado molto elevato e naturalmente questo paziente era un nodulo molto piccolo aveva fatto un controllo a 6 mesi questo nodulo era cresciuto quindi praticamente abbiamo avuto la conferma poi che con una PET-TAC che è un esame estremamente utile vedete in questo caso è un esame che misura l'attività metabolica del nodulo e con con un margine di errore minimo del 2-3% solamente ci dice se quel nodulo è un nodulo maligno o benigno quindi questo è estremamente importante e questo paziente poi è stato operato ovviamente e abbiamo avuto la conferma che era un adenocarcinoma polmonare la PET è estremamente utile adesso qui sono dati diciamo più per i tecnici però vedete che ha un potere risolutivo molto molto alto i noduli che però devono avere almeno 5 mm io direi anche qualcosa in più se non c'è un centimetro il nodulo è difficile che la PET ci dica qualcosa però sicuramente a parte alcune condizioni particolari la PET oggi ci aiuta moltissimo a ridurre al massimo degli interventi inutili ecco quindi questo ora il discorso il discorso è questo è che se noi riusciamo a individuare un tumore del polmone in una fase così precoce possiamo fare una chirurgia meno invasiva possiamo raggiungere percentuali altissime di guarigione e quindi penso che possiamo davvero proiettandoci nel futuro pensare non dico di sconfiggere completamente questo tumore che abbiamo visto che ha un'altissima incidenza e purtroppo un'altissima mortalità perché viene diagnosticato in fase molto avanzata ma sicuramente possiamo riportarlo a dei valori di curabilità simili a quelli del colon o a quelli della mammella e sarebbe un ottimo risultato questo ecco dicevamo poi anche dei progressi perché poi una volta che si decide di intervenire su un tumore del polmone oggi la chirurgia aiuta perché non si tratta più di quegli interventi chirurgici molto invasivi del passato di tanti anni fa vero? esatto esatto io infatti su questo volevo se mi fa vedere ecco se ci fa vedere questo filmato vede oggi siamo arrivati a fare degli interventi chirurgici che una volta venivano fatti con dei tagli che interessavano tutto il torace praticamente avevano tagli di 32-35 cm adesso vedete noi facciamo un solo foro un forellino di un centimetro e mezzo due centimetri attraverso questo foro grazie ovviamente alla tecnologia che ci viene incontro noi a Pescara abbiamo adesso in sala operatoria siamo dotati di colonne con telecamere full HD 3D il robot quindi abbiamo davvero una tecnologia di altissimo livello che ci permette di fare queste cose quindi queste sono delle pinze ad ultrasuoni questo è un caso di un poneo motorace c'era questa bolla di enfisema all'apice polmonare vedete che viene staccata sempre attraverso questo forellino poi abbiamo fatto una resezione di questa bolla apicale che rompendosi aveva causato il poneo motorace vedete questa è la bolla si vede bene la distrofia bollosa e si introduce questa diciamo suturatrice meccanica robotizzata che permette di cucire e tagliare questo e poi ovviamente tutte le fasi dell'intervento vengono agevolmente fatte sempre attraverso questo piccolo foro noi abbiamo cominciato a fare questa chirurgia ma non è che si parte subito da questo bisogna fare ovviamente un'esperienza adeguata di chirurgia tradizionale di chirurgia meno invasiva come sono le mini toracotomie videoassistite come sono se torna quella diapositiva di prima la diapositiva che avevo fatto vedere prima il percorso proprio che la nostra chirurgia toracica ma anche tutte le altre branche della chirurgia hanno fatto nel tempo negli ultimi 20-30 anni è verso una chirurgia sempre meno invasiva quindi vedete che se riesce a rimpicciolirla perché vedete come l'approccio che una volta era di queste grosse toracotomie adesso è passata attraverso toracotomie sempre più piccole fino a arrivare a quello che abbiamo visto e alla robot quello che abbiamo visto fino ad oggi questo direi che è una cosa estremamente importante io approfitto per chiedere anche questo quanto è valsa all'aver visto come dire lontano tempo fa quando lei addirittura noi sappiamo era in tempi non sospetti possiamo capare e è andato a specializzarsi in Francia quando allora c'era la famosa toracoscopia che era già un attimo ai primi agli albori questo mi fa ricordare una cosa simpatica che gliel'ho poi rinfacciata più di una volta al mio al mio maestro professor Coloni che quando negli anni 90 si cominciò in Europa i primi centri furono in Francia a Parigi e io allora c'era tantissimo entusiasmo ce l'ho ancora però c'era sicuro ce l'ho ancora c'era tantissimo e c'era tantissimo e c'era tantissimo interventi che vi ho fatto vedere adesso in Uniportale e io volevo andare e mi disse ma no questa è una chirurgia che non avrà nessun futuro che è impensabile che è quella e io invece che ero già allora ero un testone sono calabrese quindi sono testone quasi come gli abruzzesi e allora andai mi ricordo a spese mie con le mie ferrie andai a vedere e rimasi affascinato effettivamente e oggi allora nessuno pensava che si potesse fare la chirurgia che si fa oggi attraverso due o tre forellini così come oggi nessuno mi crederebbe se io mi pensereste che io sia un visionario se vi dicessi che questi interventi in Uniportali noi stiamo per cominciare a farli in anestesia locale addirittura sì quindi praticamente si fa quasi a livello di ambulatorio senza minimizzare troppo ma quasi quindi questo incide anche ovviamente sull'ospedalizzazione del paziente sicuramente sì sono cose che avranno bisogno di tempo perché diciamo le tecniche vengano standardizzate perché la tecnologia ci aiuterà sempre di più già esistono dei ferri dedicati per l'Uniportale che io già ho quindi queste sono cose che la robotica che aiuta moltissimo anche a fare questa chirurgia è evidente che se io riesco a fare un intervento attraverso un solo foro e in anestesia locale è molto probabile che il paziente o la sera o il giorno dopo se ne possa andare a casa perché no e allora parlando di questo ricordo citando il caso suo personale di Pescara prima avevamo visto un attimo tra le diapositive quel passaggio sui centri della speranza i reparti della speranza lei si sente di guidare un reparto della speranza che sarà citato in questo articolo allora sì guardi questo è una cosa che mi ha molto inorgoglito devo dirle sinceramente perché questo è un articolo che è uscito su Repubblica del 27 luglio di quest'anno è uno studio che aveva fatto l'Istituto Oncologico Europeo su diciamo 200 centri in Italia di chirurgia toracica diciamo che stabilendo gli epidemiologi e gli studiosi dell'OIEO quali erano il numero minimo di interventi chirurgici per tumore del polmone che ogni centro doveva fare per poter assicurare una curva di apprendimento adeguata per dare al paziente la tranquillità di avere come dire un adeguato trattamento chirurgico e 150 di questi 200 centri stanno al di sotto di questi 50 casi minimi che bisogna fare gli altri 50 centri è stata fatta una classifica e Pescara come unico centro in Abruzzo è all'undicesimo posto tenga presente che a Roma ci sono 5-6 chirurgie toraciche a Milano ce ne stanno 7-8 a Napoli ce ne stanno 7 delle grosse città che Pescara l'Abruzzo si è classificato all'undicesimo posto sui 50 reparti promossi certo è una cosa che mi inorgoglisce parecchio alla fine della mia carriera devo dirle che sono soddisfatto sicuramente visti anche i competitor è un elemento che sicuramente ci fa inorgogliare anche a noi abruzzesi dottor Chio prima di lasciarci qual è il futuro della tecnologia a servizio di questi studi e soprattutto che cosa ci può dare la radiologia e la diagnostica nel futuro ma la diagnostica diciamo che ha espresso abbastanza negli ultimi negli ultimi tempi con l'avvento delle TAC multistrato dove oggi c'è l'accanimento di aumentare sempre di più il numero degli strati TAC 16 strati 32 64 128 sono ancora in fase di sperimentazione quelle a 600 strati riusciamo sempre a entrare sempre di più come se ci vedessero con le mani però c'è un piccolo problema c'è un piccolo problema che è quello che le macchine ci danno tantissimo il nostro occhio come ho detto prima non è capace poi di andare a pizzicare e a vedere bene quelle piccole e qui entra però chi legge ovviamente queste TAC sì perché ci fanno vedere cose sempre più minimali dove la caratterizzazione è diciamo difficile l'unica speranza non è tanto il numero degli strati quando la possibilità di ridurre ulteriormente la dose quindi di rendere queste macchine sempre più a basso dosaggio in modo tale che si possano eseguire tranquillamente perché abbiamo visto che almeno ad oggi è l'unica metodica che permette poi di vedere se c'è un nodulo sospetto all'interno a livello polmonare oppure no bene io ringrazio sia il dottor Claudio Archivio soprattutto il dottor Archivio Lococo per queste utili informazioni sono informazioni ci danno anche speranza insomma diciamo continuate così perché quando si parla di buona sanità in questi termini io penso che faccia piacere a tutti e qui noi salutiamo con l'equipo che segue il dottor Lococo esatto tutti i miei medici che ovviamente i risultati che noi abbiamo raggiunto a Pescara solo in parte sono merito mio ma sono molto merito dei miei collaboratori questo è importante noi ringraziamo estendiamo anche il ringraziamento dei nostri telespettatori a queste persone che ogni giorno si battono soprattutto per la ricerca per sconfiggere il tumore al polmone che penso che sia un nemico comune di tutti grazie per averci seguito buonasera grazie buonasera